Cari concittadini, il Comune di Ventimiglia ha attivato un nuovo servizio per voi. Siamo già da tempo presenti sui social e con il sito istituzionale, ma con Sindaci in Contatto 2.0 l'amministrazione avrà una nuova opportunità di comunicare con voi e con quei concittadini più lontani dal mondo digitale che quindi potrebbero rimanere esclusi da informazioni sui servizi, eventi ed emergenze. Con questo nuovo sistema potremo raggiungere tutti attraverso un canale diverso, quello del telefono cellulare o il telefono fisso. Miglioriamo i servizi e accorciamo le distanze. Per ricevere direttamente le informazioni tramite messaggio vocale o sms, iscrivetevi chiamando il numero 0184 71 62 50 o registratevi sul sito www.ventimiglia.sindaciincontatto.it Il servizio è gratuito.